Ciao a tutti, da Enzo Sorrentino. Oggi vi ripito la marcia dei bersaglieri. Vi metto la coppietta per ascoltare la musica dei bersaglieri, perché non sono un musicista. E allora vado a orecchio. Allora, vediamo. Allora, vediamo. Allora, vediamo. Allora, vediamo. Allora, vediamo. Ho fatto il possibile. Non ce la faccio. Ciao.